Un gruppo di sei persone, tra cui due bambini, rimasto in panne per un avaria al motore di un'imbarcazione alla deriva nello specchio d'acqua davanti all'isola di San Pietro, a Taranto, è stato tratto in salvo da personale della Capitaneria di Porto. La barca, a causa della corrente del vento sostenuto, stava andando rapidamente in direzione della scogliera. È stato necessario l'intervento di una motovedetta e di un'unità navale del locale gruppo ormeggiatori del Porto. L'equipaggio dell'imbarcazione, in preda al panico, aveva comunicato che il mezzo, a causa del vento, aveva raggiunto la vicina scogliera Frangiflutti, provocando piccole falle allo scafo con conseguente aperture di vie d'acqua. I sei occupanti sono sbarcati sugli scogli in evidente stato di agitazione. Sono stati presi a bordo dalla motovedetta e portati a terra. L'imbarcazione è stata recuperata e rimorchiata verso il porto.